Per quanto riguarda il Covid vi chiedo di essere estremamente prudenti. Noi ci aspettiamo per fine luglio di raggiungere il plateau, cioè la soglia di stabilizzazione dei contagi, ma già siamo preoccupati di quelli che verranno, torneranno in Italia dopo essere andati in ferie, non a Dischia ma in Grecia, in Croazia, in altre parti del mondo e probabilmente dovremo fare un'ordinanza per obbligare a fare i controlli negli aeroporti di tutti quelli che vengono dall'estero a fine agosto, altrimenti noi avremo un mese di settembre e ottobre estremamente pesanti. Vi chiedo di essere prudenti, di mantenere la mascherina, di non fare come avete fatto quando sono arrivato all'eliporto, tutti senza mascherina, poi il presidente e il presidente della regione, tenetela sempre a mascherina. E cerchiamo, ripeto, di essere prudenti. È evidente che non possiamo richiudere l'Italia. Siamo tutti stanchi, estremati, abbiamo bisogno di rilanciare l'economia, ma questo richiede un grande senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini, altrimenti davvero ci facciamo male.